Ma ha colpito in primis la sceneggiatura di Fabio Segatori e Paola Columba, che l'hanno scritta da 5-6 anni. Io avendolo fatto per 4 anni in teatro mi sono ritrovato, volevano un Don Ghisotte serio, per niente un Pierro stralunato, che ci crede veramente, come i bambini quando gli dici di farli indiani e ci credono fino in fondo. E ovviamente per me è stato un regalo, dopo averlo interpretato per 4 anni sul palcoscennico portarlo al cinema è stata una cosa che non mi è mai successa tra l'altro nella mia carriera. E poi arrivo in queste terre e scopro delle cose fuori dal comune, soprattutto naturalisticamente parlando, sono ancora vergine da scoprire. Cito anche la Basilicata perché siamo partiti anche dai Calanchi Lucani, ma poi la maggior parte è stata qui in Calabria e mamma mia, tra i vostri castelli e le vostre coste, i due mari, il pollino, riserve, greggi, pecore, mulini a vento giganti. Ecco, questo immaginifico dentro questa vostra terra si è ampliato e io mi ci sono trovato alla grande, con il Don Ghisotte che ho interpretato. Commissario, in che misura ha contribuito Film Commission in questo film? Diciamo è stato fondamentale perché fa parte del bando dello scorso anno, per me questo film è una punta di diamante, è un unicum per la storia che mi appassiona, provengo dal mondo letterario, quindi il Don Ghisotte di Cervantes è sicuramente una delle opere letterarie più importanti e più famose al mondo, interpretata magistralmente ad uno degli attori punti di diamante del cinema, del teatro e della televisione italiana, quindi si prospetta un successo sicuramente assicurato. Alessio Boni, sublime interprete di questo film, molto nelle sue corde, perché lui ha fatto una delle scelte professionali molto decise, molto onette, quindi questo è un percorso che fa parte di tutti i suoi straordinari personaggi che ha interpretato finora, quindi insomma ci auguriamo il successo che merita, ci sono i presupposti. Il Film Commission in che misura riesce a promuovere la Calabria? Penso che in questo momento sia il mezzo di comunicazione, culturalmente parlando, uno strumento di promozione da un punto di vista del marketing territoriale unico, quindi si occupa principalmente di questo, attraverso il film, attraverso la narrazione di questa nuova Calabria, attraverso film, cortometraggi, lungometraggi, rappresentiamo la Calabria come attrattore turistico. Sento, spesso quando parliamo di Calabria, purtroppo parliamo anche di Indrangheta, questa volta insomma noi evitiamo di parlare di una Calabria diversa, raccontiamo. Non so di che stia parlando, che termine ha usato, non esiste qua, non c'è proprio stato neanche il sentore, neanche lontanamente, e questo è frutto proprio di un'appassionata voglia di rendere veramente sullo schermo cinematografico questa verginità di questa terra che è fuori dal comune, è proprio potente, è forte, sembra di stare a volte, non lo so, in un film di Sergio Leone, a volte sembra di stare nelle Alpi, a volte sembra di stare nei Caraibi, è da scoprire, quindi grazie a Anton Giulio che sta facendo un grande lavoro straordinario negli ultimi soprattutto 3, 2, 3 anni, la film comincia a Calabria e sta cominciando a avere dei numeri molto molto seri e competitivi e io ne sono gioioso perché da lavoro e poi vi fa sempre il cinema, come diceva Fellini. Senti, ultima per tutto, cosa dobbiamo imparare dai calabresi? L'accoglienza che hanno, che non è artefatta, non è neanche fronzolina, non è esagerata, ma è un'accoglienza vera, pura, e come dicevano i greci, la più alta civiltà di un popolo è l'accoglienza, i calabresi ce l'hanno, con grande onestà e sincerità. Commissario, che impatto pensa che avrà sul mercato industriale questo film? Spero l'impatto meritato perché finalmente si parla di cultura, penso che l'atmosfera, il paesaggio, i castelli medievali, le spiagge incontaminate si sono prestate benissimo al romanzo originale, quindi speriamo che sia un grande attrattore di turismo e che contribuisca al livello culturale della Calabria, per fare conoscere la Calabria anche da questo punto di vista, che vanta appunto mille anni di storie, da un punto di vista filosofico, artistico, letterario e archeologico. Quanto sono importanti queste collaborazioni interregionali? Sono fondamentali direi. Don Quixote è il film della mia vita, dopo aver fatto film d'azione, film spettacolari, moltissimi documentari, mi sono ricordato delle letture giovanili, delle letture del liceo classico, e Don Quixote fu fulgorante per me quando facevo il liceo classico a Viterbo. Poi da ragazzo, alla metà degli anni Ottanta, ho conosciuto l'Alto Ionio, una zona pazzesca, bellissima, misteriosa, avvincente, con una natura potente, dei castelli, delle spiagge meravigliose, dei fiumi. E ho sempre detto, ma perché in questa non diventa una zona di cinema, perché non ci portano i cinema, non ci portano i film? Allora, unito le due cose, oltre a un'altra cosa, sono stanco, io ho tanti amici e amiche calabresi, sono stanco di questo sillogismo Calabria uguale a Andrangheta. E allora, un po' per ripicca, un po' per il mio anticonformismo endemico, ho scelto di fare una favola morale ambientandola in Calabria, per dare anche un segnale e dire che la Calabria può essere anche una terra di sogno, una terra di fantasia, una terra di libertà. E per questo abbiamo costruito anche dei mulini a vento che vorremmo lasciare sul territorio e creare qui la via dei mulini, proprio come una metafora di libertà, di fantasia e di coraggio per i giovani che devono credere nei propri sogni. Senta, c'è stata qualche scena particolare in questa location suggestiva? La location, la scena più emozionante naturalmente è stata la scena dei mulini a vento, nella quale Alessio Bonni è dovuto salire sulle pale del mulini a vento fino a 13 metri d'altezza. Quindi è stata una scena molto spettacolare, anche molto pericolosa. Alessio è stato molto coraggioso, ha dato tutto se stesso, è un uomo fantastico, molto generoso, nonostante il nostro sia un piccolo progetto, però alla fine i risultati si vedranno sul grande schermo. Il film uscirà al cinema e si vedranno finalmente, per il grande pubblico, si vedranno la bellezza e la maestosità dei castelli di Rocca Imperiale, di Oriolo, di Rosseto Capospullico, il Ponte del Diavolo, di Civita, qui Broglio e tante altre location bellissime. Abbiamo già anche una parte nei calanchi della Basilicata. La Calabria risulterà come una zona di sogno, una zona mitica. Molte persone rimarranno sorprese. Guardi, io penso che è un racconto di una Calabria diversa, di una Calabria pura, di una Calabria dove domina la natura, dove c'è uno spazio per il sogno, per la fantasia. E il simbolo di questi concetti è proprio il mulino a vento, che è anche un prodotto made in Calabria, tutto fatto, costruito, progettato da maestranze e da un architetto pinoruggiano, che è di Villa Piana, in provincia di Cosenza. Quindi è tutto un prodotto made in Calabria per dimostrare al mondo intero che la Calabria sa anche fare delle cose per il sogno, per la fantasia, per la libertà.